Oh, un pupazzetto che somiglia a Squiddy! Fammi giocare, dai! No, Patrick! Il falco rosso! Sganciare! Patrick! Super pugno gigante! Non è un pupazzetto, Patrick, questo è veramente Squiddy, l'ho rimpicciolito per sbaglio! Lo ho niente, posso giocare! Ti proteggo io, papone! Ma, sta tranquillo, ho un tubo per l'acqua. Quindi... Nell'episodio precedente di A Tutto Reality l'Isola Ieri sera stavo guardando una trasmissione su un certo Hitler. Qualcuno dovrebbe fermarlo! Ho trovato un'astronave! Un'astronave? C'è una nave spaziale, Buzz! Un'astronave... Sei venuta qui per farmi cambiare idea? Beh, giustamente questo è il titolo dell'episodio, no? Avresti bisogno di una famiglia tradizionale. Steven, adesso prendi lo spray per omofobi! Spruzziamole in faccia! Wow, quella renna parla! Sembra Zootropolis! Sarebbe perfetta se fosse etero... Razziomofobo! Noi altre siamo le cristallo gemme! Sempre il giorno noi salviamo! E se non credi in noi, la nostra via scopia... Corindone Sama! È tuo desiderio maritare me! Cosa? Steven, coesistere sarebbe impossibile! Sarà a tua parte integrante, eh? Tu sarai qualcosa di oltremodo ganso! Tu sarai un signorino umano! Per questo motivo la gente che abita questo pianeta Presta fede di Rodolite e Ametista E parla... E Stefano Chan! Serra la tua bocca! Non v'è che fallimento ad ogni aspetto della tua computazione Così come sia non resta che attenersi a un ordine singolo, sai? E ad ogni modo lasciare che il grappolo si protragga Per a spettacolo di distruzione E per quanto riguarda me non avrò che immensa soddisfazione Nella rimozione immediata di tale macigno dalle mie mappe! Ti pare, eh? Di contro non lo farò! Posso esporre certamente che sono presenti su questo pianeta Valori indifendibili ancora! Che cosa mai hai veduto della Terra? Pare sia più di voi certo! Diamante bestia! Che hai preferito? Dunque? Una patata cotta al vapore!